Misuriamo la tua salute. Oggi siamo qui per vedere, nell'ambito della misurazione dei test che ci aiutano a conoscere la salute, quella parte legata all'analisi del sistema nervoso autonomo. Allora, lo strumento in oggetto è questo, il suo nome è PPG Stress Flow, è uno strumento che attraverso due piccoli pletismografi, che si inseriscono, come vedete, nelle dita indici del nostro cliente, ci permettono di registrare un segnale che attraverso il software per 5 minuti consecutivi riesce a restituirci una serie di dati molto interessanti legati sostanzialmente alla capacità di adattamento del corpo della persona. Come si svolge il test? La persona deve stare in una posizione rilassata ma sostanzialmente retta, viene chiesto di non fare movimenti con le mani e al via dello strumento per 5 minuti viene registrato sostanzialmente il vattito cardiaco, gli atti respiratori e dopo 5 minuti il software si spegne in automatico e restituisce l'analisi completa di tutti questi dati che successivamente nella sede di colloquio vengono raccontati, spiegati dettagliatamente al cliente in modo da conoscere quali strategie per esempio adottare per migliorare questi parametri. A presto! Grazie a tutti